Come si racconta la diversità ai ragazzi? La diversità si racconta esattamente nel modo che state vedendo, rendendoli partecipi di riflessioni articolate su come ognuno di loro intende l'altro, intende la diversità e quali possono essere delle strategie per costruire dei percorsi di inclusione reali condivisi, non solo all'interno delle scuole ma anche all'interno delle aule universitarie o del territorio che ognuno di noi abita. È il tema della diversità e delle classi multiculturali quello scelto ad Arezzo per la Notte dei Ricercatori, la grande festa della ricerca che si svolge in contemporanea in oltre 200 città di tutta Europa. Nel campus del Pionta il Dipartimento dell'Università di Siena ha dedicato un evento a questo tema coinvolgendo i ragazzi delle scuole superiori, portati in un cammino di riflessione più ampio che possa oltrepassare pregiudizi e stereotipi. Parlandone tanto, parlandone come questi ragazzi hanno fatto l'esempio che in classe ne hanno affrontato, hanno cercato di spacchettare, capire il perché, da dove deriva questi schemi che hanno. Anche in provincia di Arezzo le classi sono sempre più multiculturali, gli studenti stranieri sono circa il 15% nelle scuole elementari, il 14% nelle scuole medie e il 10% nelle scuole superiori. Sono contenta che se ne parli perché così cambia questa idea della diversità, questa è una nuova generazione.